Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Stato parliamo del cibo in scatola, cosa dobbiamo stare attenti? Perché ci sono tante preoccupazioni da parte delle persone che ci hanno scritto da casa, ma soprattutto ci sono anche dei rischi. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi presento, e che sono la dottoressa Mirelle Lia, nutrizionista ospedale pediatrico Bambì Gesù di Roma, e Enrico Cinotti, vice direttore del mensile Il Salvagente. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, c'è un altro argomento di attualità, perché tra pochi giorni c'è la scadenza per quanto riguarda le polize per le casalinghe e i casalinghi. Allora vi daremo le indicazioni perché è cambiato tanto quest'anno, e allora vado dall'altra parte dello studio, vero Maris? Verissimo, buonasera Giuseppe, buonasera anche a voi amici che ci seguite da casa, perché mancano pochissimi giorni entro il quale si può appunto stipulare questa assicurazione obbligatoria. Adesso con Giuseppe l'esperto scopriremo a chi è rivolta, che cosa copre e soprattutto quanto costa. A te Giuseppe. E allora buonasera e grazie al vice direttore del rapporto assicurativo dell'Inail, Alfredo Nicifero. Buonasera dottore. Subito partendo dall'argomento di oggi, perché stiamo a parleremo del cibo in scatola. Se io mi taglio purtroppo, ahimè, a casa, una persona che sta in casa, si taglia con una scatoletta, può utilizzare, in qualche modo può rivolgersi a voi per la polizza? L'assicurazione copre gli eventi di una certa gravità, in teoria se il taglio è così profondo addirittura da portare all'amputazione di una falange è una pattispecie coperta attraverso l'assicurazione di cui stasera parliamo, però si parla di danni di una certa significatività. Iniziamo a spiegare, quali sono i requisiti per poter, anzi è obbligatorio l'assicurazione, per vedere l'assicurazione, ma i requisiti quali sono? L'assicurazione è obbligatoria, i requisiti sono soprattutto quelli dell'età, ad essere, aver compiuto almeno 18 anni e fino a 67 anni di età, svolgere attività abituale ed esclusiva nell'ambito domestico a favore dell'abitazione, della cura dei familiari e non svolgere altre attività lavorativa coperta da altre forme di assicurazione e di assicurazioni private. L'importante è l'esclusività, il rapporto svolto all'interno dell'abitazione in cui si dimora. Ecco, l'abitazione, quali sono i luoghi tutelati? Facciamo un esempio pratico, se mi faccio male all'interno delle mura domestiche siamo tutelati, una persona è tutelata, e se succede, non so, all'entrata di casa? È tutelato tutto ciò che accade all'interno delle mura, ma anche nelle pertinenze condominali, ad esempio, o nelle pertinenze, nei luoghi comuni, sia del condominio che dell'abitazione, nel box, nel giardino, sull'androne, nel vialetto, insomma, in tutte le pertinenze che conducono all'abitazione, alla dimora abituale. Dicevamo che è un argomento di attualità perché tra pochissimo c'è la scadenza, cioè i termini sono tra poco, qual è l'ultimo giorno per poter pagare e quanto si paga? Allora, la scadenza ordinaria è il 31 di gennaio, il premio è di 24 euro quest'anno, è aumentato perché sono aumentate anche le prestazioni, magari se poi parleremo delle novità potremmo approfondire questo tema. Beh, diciamo che la scadenza... E si paga in un'unica volta, questi 24 euro è in un'unica volta? Adesso si paga in un'unica volta, però se uno si iscrive successivamente alla scadenza, magari uno matura i requisiti in corso d'anno, conti gli anni, 18 anni d'età, per esempio a metà dell'anno, non si deve iscrivere dentro il 31, ma si iscrive quando compie gli anni. Ci dica le novità del 2020, quali sono? Sono importanti e rilevanti? Sicuramente l'incremento dell'età per avere diritto all'assicurazione è una novità importante, come anche l'abbassamento del grado per avere diritto alla prestazione e rendita, prima era il 27, adesso è sceso al 16, al di sotto del 16... Cioè spieghiamolo bene questo, per avere poi una rendita successiva, è stato abbassato, insomma... La soglia per poter accedere, la soglia del danno che dà il diritto di accedere ad una rendita permanente, è stato abbassato dal 27% di invalidità, che era una soglia abbastanza elevata, al 16% e addirittura dal 6% fino al 15% si è tutelati attraverso una prestazione economica, una tantum di 300 euro, per eventi assolutamente, certamente meno gravi. Chi è esentato al pagamento? Perché ci sono delle fasce sociali di persone che fanno i lavori in casa, che svolgono i lavori in casa, che sono esentate. Quali sono? Sì, certamente sono esentate chi ha soggetti non ambienti, con redditi al di sotto della soglia di 4.648 euro come reddito personale o che gode di un reddito complessivo, diciamo, del nucleo familiare, di 9.246 euro. Per questi soggetti il premio è a carico dello Stato, lo paga lo Stato. Noi nell'immaginario collettivo pensiamo sempre alla casalinga, la persona che lavora sempre a casa, che non svolge un'attività lavorativa. In realtà ci sono anche gli uomini, ci sono anche i casalinghi e anche persone che svolgono, ad esempio, gli studenti. Assolutamente. Gli studenti devono pagarla, è obbligatorio in qualche modo? Gli studenti, parliamo di soggetti che svolgono normalmente attività di cura, lavori in modo abituale e non occasionale di attività di lavoro domestico. Per cui se gli studenti, coloro che hanno superiore oltre a 18 anni d'età, anche, non so, i lavoratori stranieri che dimorano nell'abitazione, non svolgono l'attività... Devono pagare questi 24 euro. Devono pagare questi 24 euro. Che sanzioni ci sono? Più che di sanzioni, parliamo di una piccola somma aggiuntiva sul premio, nel caso in cui non si paga proprio dalla scadenza, però ci sono i requisiti, il premio, la somma aggiuntiva è pari al premio pagato, quindi parliamo di sanzioni cosiddette modiche. Oppure 12 euro se il pagamento avviene dopo il sessantesimo giorno, quindi ancora una somma... Un'ultima battuta, quanti sono gli iscritti attualmente? Attualmente sono un milione, circa un milione, di cui il 15% è nato certezza. Perché la platea dei casalinghi e delle casalinghe è molto ampia, perché non c'è questa attenzione? Sicuramente, ma guardi, io credo che ancora non sia scattata quella consapevolezza dei vantaggi che questa assicurazione comporta, delle tutele che questa assicurazione dell'INA offre in presenza di eventi, seppur di una certa gravità. Effettivamente la casalingha, che così è tanto abituato, i casalinghi sono tanto abituati a prendersi cura della famiglia, degli altri familiari, forse dovrebbe fermarsi un attimo e dire mi prendo cura anche di me stessa e stipulo questa assicurazione. E l'INA si prenderà cura della casalingha nel caso in cui si verifichino eventi di una certa gravità. Grazie, abbiamo cercato di fare luce, insomma, pochi giorni dalla scadenza. Ricordiamo che è fine mese con il vice direttore del rapporto assicurativo dell'INAIL, Alfredo Nicifero. Grazie a voi per lo spazio e per il servizio che fa. Grazie, allora mi sposto dall'altra parte dello studio, vero Maris, perché ora è il momento di parlare del cibo in scatola. Esattamente Giuseppe, parliamo quindi di frutta, di verdura, di pesce, di carne. Se volete dirci la vostra, ci volete raccontare soprattutto voi che uso ne fate. Ecco, raccontatecelo, chiamateci al numero verde 800 508 990. Il numero è gratuito, ve lo ricordo, sia da rete fissa che da rete mobile. Se preferite potete mandarci anche le vostre domande via WhatsApp. Il numero, ve lo ricordo, segnatelo, 340 880 1035. Sono già arrivate diverse domande e anche osservazioni sui social, quindi ci trovate anche lì. Intanto a te la parola, Giuseppe. E allora, con i nostri ospiti che vi ripresento, dottoressa Mirella Leria, nutrizionista, ospedale pediatrico Bambi Gesù, subito una domanda. Fanno davvero bene a tutti? Il cibo in scatola fa davvero bene a tutti o ci sono delle controindicazioni? Di che tipo? Allora, fa bene a tutti, diciamo in parolone. Allora, intanto un vantaggio, ovviamente ce l'hanno questi prodotti, perché ci permettono di poter consumare prodotti che altrimenti a volte non fanno parte della nostra alimentazione quotidiana. Mi riferisco in particolare ai legumi in scatola, perché sono degli alimenti che comunque comportano una preparazione abbastanza laboriosa e lunga e quindi il vantaggio è quello di averli facilmente disponibili. Ovviamente è un prodotto trattato, è un prodotto in qualche modo manipolato e quindi rispetto al fresco ovviamente c'è una differenza. Quindi sicuramente non possono andare bene per tutti, perché? Perché prevedono, c'è l'aggiunta di sostanze che solitamente non sono presenti nel prodotto fresco. Enrico Cinotti, insomma, tu sei anche un esperto dell'etichettatura, delle etichette. Ti chiedo subito, hai scritto anche un volume su questo, ti chiedo a cosa stare attenti? Poi vedremo nello specifico dei vari prodotti, però insomma in linea di massima compriamo un cibo in scatola. C'è qualche elemento che dobbiamo tenere in grande considerazione e quale? In realtà l'etichettatura di questi prodotti è molto corta, nel senso che molto spesso invece in presenza di cibi trasformati, molto lavorati, noi abbiamo una lista di ingredienti estesa, nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di sigle, di additivi, ecco però come il caso ad esempio della verdura, dei legumi in scatola, bisogna stare attenti perché ad esempio oltre alla materia prima possiamo trovare degli ingredienti che a prima lettura non ci dicono niente, come ad esempio lo zucchero oppure degli additivi che possono essere un acido ascorbico. In altri casi per esaltare anche un pochino e correggere i difetti della materia prima potremmo anche trovare glutammato di sodio, insomma in qualche maniera non facciamoci anche in questo caso troppo prendere dalla comodità di questi cibi, come diceva la dottoressa, risolvono sicuramente un pasto, una cena, un pranzo e quindi come dire insomma diamo sempre molta attenzione alla lettura dell'etichetta. Dottoressa parliamo un po' dei bambini, ma anche delle persone anziane e delle donne incinte, lo possono prendere tutti, possono mangiare tutti questi prodotti o bisogna evitare? Andiamo per categorie, bambini. Bambini, allora proprio per il problema che a volte non sappiamo che tipo di contaminanti troviamo, ovviamente va sempre a usare la cautela anche perché il bambino, che cos'è? A parte che è un soggetto in età evolutiva e il problema a volte dei contenitori è un po' il rilascio di alcune sostanze che in realtà, come diceva appunto il collega, non le troviamo nella composizione ma in realtà ci possono essere, come per esempio il bisfenolo, per esempio il mercurio, quindi sono sostanze che una volta a contatto con l'alimento quindi possono far parte in quell'alimento. E il problema del bambino qual'è? Che essendo un soggetto in età evolutiva, queste sostanze che si ritrovano negli alimenti, che non vorremmo ci fossero, vengono chiamate interferenti endocrini, quindi vanno ad interferire un po' con tutto il sistema ormonale per il bambino e il bambino poi pesa poco, quindi ovviamente c'è un discorso anche in relazione a questo. Persone anziane? Poi invece le persone anziane, per la presenza, come dicevamo, di zucchero, di sale, quindi sappiamo che l'anziano a volte deve fare attenzione a non eccedere con il sale. Lo zucchero purtroppo lo troviamo presente in maniera nascosta in tantissimi alimenti, parliamo adesso dei legumi scatola, ma per esempio ci sono anche pomodori, quindi dobbiamo fare attenzione proprio per chi ha problemi relativi alla glicemia, ma in generale anche come introito di fruttosio giornaliero. Giriamo per il supermercato, c'è tutta una tecnica, spesso ci facciamo affascinare cinotti dal colore, dalla scatola molto colorata, e invece bisogna stare attenti, o anche dal prezzo, ecco, prezzo e colore ci inducono a fare gli acquisti spesso sbagliati, posso dire. A volte anche, come dire, la scelta è tra l'alluminio, la scatola insomma tal quale, e il vetro, per esempio per quanto riguarda i legumi, il vetro è da preferire anche perché, oltre al discorso che diceva prima la dottoressa, insomma c'è un pericolo potenziale possibile di rilascio e contaminazione, quindi anche di sfenolo, ma anche eventualmente insomma direttamente tramite alluminio, c'è proprio un discorso anche di visibilità del prodotto, cioè un prodotto che è un po' torbido, è un prodotto sicuramente che sta già sullo scaffale da un po' di tempo, è un prodotto che magari è stato preparato, è stato cotto, magari con meno cure, quindi insomma la materia prima, che sia un fagiolino, che sia insomma dei ceci, si sono un pochino sfaldati, quindi insomma il vetro sicuramente ci offre la possibilità di guardare un po' più all'interno. A proposito del vetro, ti faccio una domanda, perché insomma uno dei prodotti principali che utilizziamo è il tonno, cerchiamo di far chiarezza subito sul tonno, innanzitutto vetro o scatoletta, qual è la tua indicazione proprio rapida, una battuta? Insomma voglio dire, sicuramente... Anche la tracciabilità è importante. Sì, sicuramente insomma ci sono degli aspetti sul tonno che possono essere un pochino più, come dire, dovremmo essere un pochino più severi come legislazione, cioè manca sicuramente un'indicazione di origine obbligatoria, manca sicuramente un riferimento alla tracciabilità e per esempio noi sappiamo che il tonno al naturale deve contenere per legge il 70% di materia prima, quello invece all'olio ci fermiamo al 65%, quindi teoricamente dovremmo portare in tavola più tonno se compriamo quello al naturale rispetto a quello all'olio. Poi c'è un discorso anche di scelta in materia prima, perché tra l'olio di oliva semplice, quello extravergine e quello di girasole, insomma qui abbiamo la tradizione. Io lo chiediamo subito, dottoressa, cosa dobbiamo privilegiare nella nostra scelta tra questi tanti tipi di tonno che troviamo sul mercato? Allora, ovviamente l'olio extravergine di oliva sarebbe l'ideale come tipo di condimento, al di là del tonno al naturale, che voglio dire a quel punto è vero che ha un po' più di sale, però quantomeno ci permette di poterlo poi condire come ci piace. E' una cosa che ritornando al discorso delle donne in gravidanza, parlando appunto del pesce e quindi del tonno, bisogna fare un pochino di attenzione poi per la presenza di mercurio all'interno del pesce. Perché la pressione alta c'è una scelta tra quello al naturale e quello all'olio? Stranamente quello all'olio c'è un po' meno sale rispetto a quello al naturale, però diciamo che la raccomandazione alla fine sostanzialmente è quella di non esagerare con questi prodotti, perché comunque esistono, sono prodotti comodi, per certi aspetti l'importante è che l'alimentazione non sia prevalentemente fatta di questi alimenti. Le domande da casa Maris. Allora Lida ci scrive su Facebook, mio figlio mangia a proposito di tonno e scatola, tonno e scatola sott'olio, ecco ne fa abbastanza uso, dice quante scatolette si possono mangiare più o meno a settimana? Se c'è una stima, ecco, quante se ne possono mangiare a settimana? Dottoressa. Per quello che riguarda le indicazioni, le linee guida dell'Istituto Nazionale della Nutrizione non è che è annoverato il consumo del tonno, ovviamente, vale un po' la regola come vi ho appena detto, che è bene magari non assumerli frequentemente, quindi non è che c'è una volta a settimana o due volte a settimana. L'importante è che non se ne faccia un uso frequente dei prodotti in scatola e magari alternare, per esempio esiste anche lo sgombro, per dire che comunque è un pesce piccolo, comunque magari in origine anche meno mercurio, per esempio, tornando al discorso. Ancora un'altra domanda, rapidamente Maris. Un'altra domanda invece, Rosario su WhatsApp ci chiede che cosa ne pensano gli esperti sulla carne e scatola? Carne e scatola, apriamo un capitolo. Abbiamo una battuta a testa, poi abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo con voi da casa, avremo anche un'intervista al professor Macri dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Abbiamo una battuta, carne e scatola... Beh, diciamo, come dire, insomma, lì il discorso è un pochino più complicato perché l'etichetta è sicuramente più lunga, ci sono un pochino più di sigle da decifrare, insomma, il consiglio è che probabilmente esistono anche delle soluzioni molto più veloci della carta in scatola e sicuramente forse anche più buone, non so se più sicure, ma sicuramente più buone. La qualità, la qualità della carne chiaramente non può essere delle migliori. Assolutamente, devo dire che poi queste perché hanno tanto successo, se andiamo a vedere, perché hanno un contenuto calorico molto basso e anche questo sono veloci, per cui un'insalata la prepari velocemente, però posso dire, ma sì, ma non ci vuole niente infarinare un petto di pollo e metterlo in padella, ecco, insomma. Beh, seguiamo le indicazioni, tra l'altro, della dottoressa. Ci fermiamo qualche istante, torniamo con voi da casa, abbiamo un'intervista e tante altre cose, dobbiamo parlare anche di altre cose perché, cioè, beh, ci sono, oltre al tonno, ci sono gli spinaci, i fagioli, beh, insomma, fanno bene, fanno male tra qualche istante. Entriamo in studio, stiamo parlando del cibo in scatola con i nostri esperti. Allora, dottoressa Elia, le chiedo, partiamo dai fagioli, abbiamo visto prima il tonno, i fagioli, com'è la situazione? Che cosa contengono? C'è qualcosa in più o in meno? Abbiamo parlato di sale, di zucchero? Sì, allora, devo dire di positivo, per fortuna, per quanto riguarda i fagioli, di solito c'è solamente l'aggiunta di sale e non di zucchero, contrariamente ai piselli. I piselli in scatola, quindi nella confezione appunto di metallo, invece contengono anche zucchero, quindi diciamo che rispetto al, come legume rispetto ai fagioli, vanno assunti con un po' più di cautela, ecco, per chi in realtà poi ha problemi di diabete o comunque di difficoltà nel metabolismo dei carboidrati. Sinotti, guardare la scadenza, quanto è importante? Bisogna seguirla in maniera rigorosa? Allora, noi parliamo, i prodotti in scatola sono per definizione dei prodotti longevi, nel senso che hanno una data di scadenza molto lunga, o meglio, hanno un termine minimo di conservazione, perché naturalmente non parliamo quindi di un prodotto che anche se è aperto e quindi anche se è mangiato dopo questa data indicata diciamo sulle confezioni, non comporta diciamo dei problemi di salute, ma eventualmente possiamo trovare dei difetti organolettici, un problema diciamo un po' più legato al gusto. Molto spesso, per esempio, anche nel tonno, noi troviamo solamente indicato l'anno, questo perché hanno un termine di conservazione superiore a 18 mesi e la legge gli consente di indicare, per esempio, insomma solo l'anno e eventualmente il mese di riferimento. Un'altra cosa importante è che questi prodotti, come altri naturalmente, hanno in etichetta le cosiddette indicazioni di conservazione, cioè se vengono aperti devono rispettare certe condizioni in frigo e mangiati dopo totte giorni. Insomma, suggerimenti e consigli che vi facciamo dare anche da un esperto come il professor Agostino Macri, responsabile di sicurezza alimentare dell'Unione Nazionale Consumatori. Vediamo cosa ci dice. Generalmente questi prodotti sono completamente sterili e però può capitare qualche incidente, può capitare qualche contaminazione accidentale e in questo caso se si formano delle fermentazioni anomale queste scatole tendono a riconfiarsi e quindi se uno trova queste scatole leggermente riconfie, faccia attenzione, non le acquisti, magari le segnali al rivenditore in modo che le toglie degli scaffali perché potrebbero essere potenzialmente pericolose. C'è qualche altro suggerimento che si sente di dare ai consumatori? Il suggerimento che mi sentirei di dare è quello di guardare attentamente le etichette, soprattutto per il contenuto di zuccheri eventuali e di sale, perché noi sappiamo che il sale deve essere consumato in una ragione di circa 4-5 grammi al giorno e spesso in questi prodotti c'è una quantità di sale abbastanza elevato, quindi controllare quanto sale c'è e regolarsi sul consumo che viene fatto. La sicurezza comunque è garantita su tutti i prodotti scatola che troviamo? La sicurezza è garantita su tutti i prodotti scatola, non so, per esempio per il tonno viene controllato prima di essere scatolato per la presenza di mercurio e quindi i prodotti eventualmente contaminati non vengono lavorati. Altra cosa importante è che questi prodotti sono completamente sterili, quindi abbiamo assenza di rischi microbiologici. Altro problema è che effettivamente con la cottura alcune vitamine possono degradarsi e quindi evidentemente non ce ne sono, però questo lo possiamo sostituire con della frutta fresca o dei prodotti freschi. Altro aspetto da segnalare è che una volta aperti questi prodotti vanno consumati il più rapidamente possibile, perché una volta aperti non sono più sterili, perdono la sterilità e i microrganismi ambientali possono svilupparsi e creare dei problemi. I preziosi suggerimenti del professor Macri per tutti quanti voi che state a casa. Allora vediamo invece le domande che ci arrivano proprio da voi. Allora dai nostri telespettatori. Pina da Foggia su WhatsApp ci scrive Ho l'abitudine di sciacquare abbondantemente i fagioli e i ceci in scatola per ridurre gli additivi presenti, ecco prima di consumarli. È una buona pratica quindi sciacquare i legumi prima di mangiarli? Dottoressa? Assolutamente sì, così eliminiamo infatti i residui, eliminiamo lo zucchero, il sale, qualsiasi cosa ci sia dentro. E poi soprattutto proprio perché come dicevamo prima a volte il liquido di governo che si chiama così può essere un po' pago, quindi di conseguenza è sempre bene eliminarlo. I pelati. È un capitolo a parte però diamo un suggerimento, una rapida indicazione a casa Sinotti. Perché sicuramente in etichetta noi troviamo per le passate pelati, tutti i prodotti derivati dal pomodoro, un'indicazione di origine, cioè il paese in cui è stato coltivato, raccolto il pomodoro. Quindi insomma sicuramente è un elemento aggiuntivo rispetto all'altro tipo di scatolame. E anche in questo caso la percentuale di prodotto che noi ritroviamo, per esempio nella passata, per distinguerla ad esempio dall'acqua e dal sale che può esserci. Da casa. Un'altra domanda che sia riferito alla passata piuttosto che a legumi, pesce e carne. Eccoci, chiede il nostro Alessandro, una volta aperta il nostro barattolo, quanto tempo può rimanere in frigorifero? Ve l'ho sentito anche il professor Magri dice, rapidi, essere rapidi nel consumarli. Dottoressa? Sì, e soprattutto non lasciarli nel contenitore stesso, ma invece in realtà metterli in un altro contenitore può andare benissimo il vetro, perché non dimentichiamo che il vetro è un materiale inerte, quindi, e poi conservare un frigorifero. Però con il giro di un paio di giorni massimo va consumato ovviamente. Ancora acquisiti? Leandra da Catania ci dice, faccio il riassunto, insomma, dice come faccio ad essere sicura se io compro una scatoletta di tonno, di carne, che quell'alimento che trovo dentro non siano ad esempio gli scarti, ecco, quanto sulla certezza dell'alimento. Sull'etichetta forse la percentuale? In alcuni casi c'è anche una differenza, no? Per il tonno abbiamo varie qualità di tonno. Esattamente, sì, sì, esattamente. Molto spesso in confezione noi ritroviamo anche non solo la specie, diciamo, di tonno, in gran parte pinne gialle, che non è il prodotto migliore da questo punto di vista, ma troviamo anche il, diciamo così, il taglio del prodotto. Quindi troviamo, diciamo, il trancio, troviamo il trancio intero, troviamo appunto lo spezzettato. Più la scatoletta è piccola e più il prodotto è di risulta, diciamo, della lavorazione del tonno stesso. Maris? E ancora, è vero che le lattine contengono bisfenolo, cioè una sostanza chimica che fa male? Toressa? Diciamo che il rivestimento all'interno dei barattoli si contiene, deve avere ovviamente un qualcosa che in qualche modo si interpone con il materiale del barattolo. Quindi sì, ci potrebbe essere un rilascio di queste sostanze, però considerate che tutto questo ovviamente è normato dalla comunità europea, quindi comunque anche dei livelli presenti devono essere, tutto deve essere comunque in dosi accettabili, insomma. Ultima domanda Maris. Claudio, come tanti altri, alla fine è meglio vetro o latta? Proprio rapidamente, una battuta ai nostri ospiti, cominciamo dal vice direttore del salvagente Enrico Cinotti. Il vetro perché a me piace guardare quello che acquisto. Dottoressa Mediana Delia, nutrizionista, ospedale pediatrico Bambin Gesù. D'accordissimo ovviamente con il vetro. Solamente per un fatto di guardare il prodotto, ma anche per un fatto di elementi. L'abbiamo detto anche come contenitore che comunque ovviamente è un materiale inerte e poi soprattutto perché guardi che cosa stai acquistando, insomma. Che è sempre importante. Grazie davvero ai nostri ospiti e direi che per stasera è davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata. Attenti al lupo. Torna domani alle ore 19 per parlare di segnaletica stradale. Ecco che cosa fare, soprattutto la tutela dei cittadini. Non perdete la punta dei domani. Arrivederci.